E' questo qui, vero? Il Rockstone? Sì, il consiglio delle Valkyrie. Le Valkyrie vengono dal Valhalla, no? Sono lieto che tu abbia prestato attenzione, fratello. Dici bene. Il Valhalla, la grande sala degli Ainerier, è la loro dimora ad Asgard. Ma mentre si trovano là, sono soggette all'esame del padre di tutti. E i rapporti tra Odino e le Valkyrie erano tesi quando ero il suo consigliere. Perché? Ma quella è una storia ancora più lunga. Per ora che ne dici se cerchiamo degli indizi? Kunna, signora della guerra. Dopo ogni scontro, è la prima ad arrivare per scoprire quali siano gli spiriti degni del Valhalla. Un compito orrendo, ma lei lo ritiene un grande onore. Ogni scontro? Impossibile. E' vero. Si faceva aiutare dalle sue sorelle, certo. Ma Gunnar era sempre la prima ad arrivare. Il suo giudizio dei caduti non aveva uguali ed era un aiuto prezioso per Odino. Era una delle sue preferite. Gondul, la bellissima Gondul. Gondul, la bellissima Gondul. Niente storia? Scusa, ragazzo. La sola vista di Gondul mi mozza il fiato. Gondul aveva una voce d'oro, una mente acuta e un aspetto che faceva letteralmente impazzire gli uomini. Dopo un po', Odino le proibì di mettere piede a Midgard, poiché la pazzia non era ben accetta nel Valhalla. E' Gaerdrifull, la maestra d'armi del Valhalla, il cui compito è armare e addestrare gli Aineriar di Odino. E chi? Il suo esercito per il Ragnarok, unico motivo dell'esistenza del Valhalla. Gli Aineriar attendono nella grande sala, bevendo, banchettando e sco... fornicando senza fine. Quando inizierà il Ragnarok, Odino li chiamerà a combattere. Gaerdrifull ha il suo bel da fare ad addestrare quella gente. Questa, amici miei, è Cara. Le Valchirie sono irascibili per natura, ma Cara è una tempesta in carne e ossa. Una tempesta? Già, calma e composta. Poi l'aria inizia a muoversi e la furia della sua tempesta si scatena. In un certo senso era uno spettacolo se riuscivi a metterti al riparo. Le sue lacrime mondano i campi di battaglia. Lei è Rota, una giudice dei caduti. Ma non lo erano tutti? Non esattamente. Sebbene sia uno dei ruoli più noti è la loro più grande responsabilità. Hai visto cosa succede ai morti senza il giudizio delle Valchirie. Yell Walker. Esatto. Rota, Gunnr, Skull, poiché non visitano più i campi di battaglia, El trabocca di anime destinate al Valhalla. Una situazione disdicevole. Rota deve essere fuori di sé. Ah, e qui abbiamo Eir, la guaritrice. Una Valchirie guaritrice. Strano. In effetti Eir era strana, calma, tranquilla. Le sue sorelle erano dei torrenti impetuosi. Lei un pacifico ruscello. Curava le ferite dei mortali e degli dèi e persino quelle di un saggio onnisciente che una volta alzò troppo il gomito e cadde da un monte. Ah, non ne vado, fiero. Bene, bene. Hilda, la signora della battaglia. Lei e Odino andavano molto d'accordo. Lei e le altre Valchirie, non tanto, passava la maggior parte del tempo qui a Midgard a osservare le discordie dei vivi, mettendo fine ogni tanto a queste contese. Adorava i conflitti. Alcuni dicono che fosse un conflitto vivente. Mi chiedo cosa ne sarà di lei ora che è libera. Olrun era la figlia di un potente capitano. Cadde mentre lo difendeva da un attacco di predoni. Olrun fu condotta al Valhalla, dove scelse di dedicare la sua vita nell'aldilà al sapere supremo. Un comportamento anomalo se paragonato a quello dei suoi compagni del Valhalla, impegnati in banchetti e grandi bevute. Come diventò una banchina? Odino vide in Olrun uno spirito affine, determinato dalla scoperta del sapere. La nominò studiosa delle Valchirie. La nominò studiosa delle Valhalla, Vada l'oskio! Vada l'oskio! Vada l'oskio! Lato sinistro! Adesso, padre! A-800-3104 world! Sinistra! Smith! Sì! Atteno! Sì! Vale occhio! Sì! Attenzione! Sì! A destra! Arriva! Sì! Sì! Sicuro di stare bene? Grazie! Sì! 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 amici, voi avete salvato le valchirie. Sigrun, com'è accaduto? Nimir, sei tu, sei stato liberato, ma... La libertà ha un prezzo, signora. Dice il vero, per innumerevoli inverni servimmo il padre di tutti, ma solo tramite la sua unione con la regina ci sentimmo libere. Non sei la regina. Esiste solo una regina delle valchirie, la dea Freya. Quando Odino le strappò le ali, servì io in sua assenza, ma per il padre di tutti non era abbastanza. Egli usò una magia arcaica e corruppe le mie sorelle. Io cercai di limitare i danni, imprigionandole in luoghi dove non avrebbero potuto fare del male, ma presto mi smarrì a mia volta. Sigrun, non mi dispiace di non esserti stato utile. Avrei potuto fare qualcosa, o perlomeno provare. Adesso che cosa farai? Devo riunirmi alle mie sorelle. Insieme possiamo portare equilibrio tra i regni. Avete la benedizione eterna delle valchirie. Ce l'abbiamo fatta, credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rianimata. Sono lieto del fatto che abbiamo liberato le valchirie, ma si sarebbero potute evitare così tante tragedie. Se solo... L'hai detto tu stesso, ma non colpa più. Il passato è passato. Beh, detto da te, è proprio confortabile. Sono di buon modo. I nani sapranno sfruttare questo ilmo. Il tuo papà è un po' cocciuto, vero? Benicami. Benicami. Benicami.